Vice sindaco, si lamentano per questo lavoro? Prestissimo, riprenderanno i lavori, c'erano dei materiali che dovevano arrivare, credo che l'ufficio mi diceva che è in settimana, ma comunque il ripristo del lungomare stanno già lavorando in piazza Lido, quindi speriamo che in tempi, prima dell'estate almeno, sarà rifatta, questo è l'orientamento. Ma quando arrivano questi lavori, quindi lunedì mattina partono i lavori? Allora, ripeto, mancavano dei materiali perché sono andati a verificare, nel ripristinare hanno visto che purtroppo i materiali erano deteriorati e quindi hanno dovuto demolire. Quindi non è il semplice rifagimento, come si sta facendo anche in piazza Lido, quindi è un lavoro più strutturale. Siccome la determina era fatta per alcuni materiali, hanno dovuto rifare, prendere altri materiali che poi per ripristinare quella parte che il tempo aveva deteriorato in maniera strutturale. Parliamo di ferro, parliamo di cemento, questo è quanto. Mi hanno portato a complimento, come vediamo qua sul lungomare. Ma lì probabilmente era partita una manutenzione, poi hanno visto magari facendo questa manutenzione, c'era un muro un pochettino, diciamo, come dire, che stava per cadere, e poi come al solito scavando, scavando, hanno visto che il danno era maggiore, quindi adesso ci vorrà sicuramente un progetto, quindi genio civile, quindi la cosa andrà per le lunghe. E' imminente l'estate, se arriva qualche turista avete questa scelta? Purtroppo è tutto il lungomare che è messo malissimo, perché Bagnara è bellissima, però purtroppo pecca di scarsissima manutenzione, poca progettualità, poca programmazione, c'è molta incompetenza, quindi noi ci ritroviamo ad avere un territorio meraviglioso. E' l'unica cittadina di tutta la Calabria che ha sul mare tutti i servizi, perché generalmente in antichità tutti i comuni calabresi erano sempre sopra la marina, pensiamo a Scilla, pensiamo a Tropea, invece Bagnara è tutto qui, quindi noi abbiamo un potenziale devastante, però purtroppo per una carenza e per incompetenza, soprattutto nel nostro palazzo comunale, non riusciamo a uscire fuori in nessun modo. Forse avete sbagliato a votare il sindaco. Nella vita purtroppo si sbaglia, quindi possiamo fare mea colpa, però i propositi erano altri e poi si è andato come al solito da un'altra parte. Dove sono i soldi che paghiamo? Un cittadino che paga i tributi, vero? Certo che li pago, io pago tutto, pago acqua, pago spazzatura e pago tutto. Quindi vorrebbe dei servizi? Ma non c'è niente, noi paghiamo solo qua a Bagnara, basta.